buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale una volta c'è chi diceva che l'ottimismo è il profumo della vita e in effetti noi criptomani di ottimismo ne abbiamo veramente tanto ma oggi questo ottimismo entra ufficialmente a far parte della rete tirium è in particolare delle change decentralizzato più famoso sulla rete principale tirium ovvero uniswap andiamo a vedere che cos'è questo nuovo layer ottimistico andiamo a vedere come si collega metamask è un piccolo tutorial direttamente sulla nuova versione di uniswap ovviamente dopo la sigla l'ottimismo è arrivato su e tirium e su uniswap anche se in realtà bisognerebbe dire che uniswap la versione 3 di queste change decentralizzato è passato ad optimismo con il roll up di ottimismo si va ad aumentare la scalabilità della rete tirium ed abbassare notevolmente i costi da parte dell'utente delle fighe come sappiamo il problema di congestione ma soprattutto dei costi in previsione anche di un e tirum 2.0 è veramente compromettente al momento tutte le transazioni sui tirion devono essere singolarmente autorizzate dai nodi questo è la grande causa del rallentamento del network la soluzione che viene suggerita da ottimismo è creare delle block chain esterne ovvero delle side chain alla block chain principale allo scopo di processare una parte delle transazioni e poi risistemarle in un unico blocco nella block chain principale sostanzialmente esistono due modi di effettuare questo roll up ovvero una raccolta di transazione in gruppi esiste il modo ottimistico e il modo zk la differenza principale è con un roll up ottimistico dipende dai blocchi per segnalare errori dalla side chain alla block chain per la correzione mentre il sistema zk contiene proprio all'interno di ciascuna batch la prova criptografica che le transazioni incluse sono corrette e priva di errori con questi predopposti ottimismo è il più semplice da realizzare anche il più leggero da trasmettere quando quanto riferito da batteri si parla di un miglioramento teorico fino a 105 volte per una transazione semplice di etirium fino ad arrivare a circa 428 volte per operazioni più complesse come un trade su uniswap ovviamente esistono anche dei rischi annessi a questo e tiro ottimistico in particolare perché è una cosa appena nata il primo rischio che si va a incorrere è per quanto riguarda la complessità infatti si sta passando da una blocce unica come quella di etirium a un numero superiore a uno questo aumentare di questa complessità va fa sì che aumenti il numero che le cose vadano storte anche in quanto programmazione un altro peso che si va a aggiungere a questo protocollo è la sempre più centralizzazione nel senso che si mettono in mano ai nodi e in questo caso ancora i minor molta più responsabilità per quanto riguarda sia l'esecuzione ma anche per le verifiche delle transazioni che siano veramente corrette una un vantaggio da usare questo layer è che ottimismo non va a emettere nella block chain un nuovo token per riuscire a pagare le fee ma si basa completamente se per quanto riguarda la sicurezza ma soprattutto anche per il gas fee alla blocce di etirium infatti si continuerà a pagare le fee della transazione sempre con la cripto valuta nativa ovvero è per poter interagire con uniswap tramite optimist tramite questa rete non bisognerà usare meta mask su rete etirium ma bisognerà andare impostare la rete optimistica come si fa basta andare su meta mask in alto selezionare la rete e andare su rpc personalizzata a questo punto dobbiamo inserire i dati mancanti ovvero nome della rete andiamo a inserire op di miss tic etirium alla voce nuovo url rpc dobbiamo andare a mettere https due punti slash slash mai net punto ottimismo punto io cn di mettiamo 10 il simbolo è et nell'ultimo campo che andiamo a compilare andiamo inserire https due punti slash slash optimistic punto eter scan e poi diamo salva perfetto abbiamo copiato questi dati che ho messo in sovrappressione ma vi lascerò comunque il link per poterli andare a copiare manualmente per verificare il corretto funzionamento ritorniamo su meta mask rete principale etirium scendiamo giù e come vedete c'è optimistic etirium noi con ottimistic etirium possiamo andare a interagire su uniswap versione protocollo optimistico colleghiamo ci ad uniswap lanciamo l'applicazione e andiamo a vedere come si presenta questo nuovo protocollo in questo momento come vedete in alta destra sono collegato a meta mask rete principale etirium e infatti non c'è nulla di nuovo su questa applicazione ma se io vado a cambiare la rete dai tiri un passo a ottimistic etirium allora come vedete le cose cambiano e inizia ad apparire la scritta uniswap su ottimismo come vedete i sempre in alto a destra c'è l'address e poi c'è la rete ottimismi cliccando qua sopra noi possiamo andare al gateway lei a 2 e per scan per quanto riguarda la rete ottimistica e passare di nuovo eventualmente alla al layer 1 dove eravamo poco fa cosa notiamo notiamo se clicchiamo qua sopra andiamo direttamente al gateway per fare il deposito su questo layer cliccandoci sopra andiamo in questo gateway una volta che siamo arrivati cambiamo un attimo rete ritorniamo su rete principale etirium perfetto facciamo la connessione nel nostro meta mask e ci appare questa schermata dove noi possiamo sia depositare che nel caso prelevare perché ho dovuto cambiare la rete visto che ero logato su ottimist sono dovuto a ritornare su reti tiri un perché come vedete qua sopra c'è mainnet quindi io devo essere logato sulla rete principale quindi etirium e noi prendiamo a spostare i nostri tocchi e le nostre cripto valute dalla mainnet principale etirium alla ottimistic etirium quindi questo funziona come una sorta di bridge come una sorta di ponte dove noi legandoci tramite meta mask su rete etirium riusciamo a spostare i nostri tiro le nostre valute sul protocollo optimist quindi volesse spostare i miei etirium o questi tocca all'interno di optimist lo dovrei fare da questo ponte attenzione perché su questo ponte le fi sono ancora quelle della rete principale ovvero etirium e sono un pochino alte come sappiamo una volta poi che i nostri tiri non sono dall'altra parte quindi sua rete ottimistica ovviamente le fi saranno veramente bassissime per poter prelevare si fa al contrario quindi i nostri token dalla rete optimist che dobbiamo rimandare sulla rete etirium sempre da questa pagina cliccando su prelievo una cosa importante attenzione nell'utilizzare questo protocollo che è stata appena lanciato perché per poter prelevare ci vogliono almeno 7 10 giorni di tempo questa attesa infinita ovviamente andrà a cessare perché adesso il protocollo del progetto è in fase alfa finita questa fase sarà come una normale transazione quindi molto veloce quindi supponiamo ad avere trasferito i nostri fondi dalla main e principale all'optimist cosa facciamo ritorniamo dove eravamo prima ritorniamo su uniswap ri andiamo a cambiare ovviamente la nostra rete dai tirion andiamo su optimist e ci troviamo da questa parte ovviamente io qua vedete saldo zero perché non ho trasportato nessun e tirion dalla rete principale a questa rete ma nel caso voi aveste trasportato qualche cosa non so potrete avere un e tirion per esempio da questa parte potete fare lo swap al momento con questi token siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento ho cercato di rassumere più possibile anche questi concetti di renderli alla portata di tutti e spero di esserci riuscito come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di unire la nostra community telegram di condividere il mio lavoro e soprattutto se avete voglia di lasciarmi un like per aiutarmi a essere indigitato sull'algoritmo di youtube noi ci vediamo domani ciao a tutti